Cittadella Fuori dall'area un tiro Deviato sulla traversa E poi dall'altra parte c'era L'ora attaccata e fatto gol Il mister negli spogliatoi Ha detto adesso di stringervi alle vostre famiglie Di passare delle feste serene Sarà questo il momento anche un po' di scaricare Qualche scoria anche con un po' di fatica Per poi ripartire insomma il 10 c'è il pavia Certo adesso non dobbiamo però dimenticare Questa prestazione in modo che Quando rientriamo possiamo subito Toglierci qualche soddisfazione in più